Natale in pediatria, la SEAP dall'Icardillo, Pallavolo, Aragona, in visita al reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, via Grigento, diretto da Giuseppe Gramaglia. Un momento di serenità, un momento di gioia, un momento di conforto ai bimbi dei gente e alle loro famiglie. Natale si avvicina e il cuore deve essere sempre più buono, soprattutto in questo periodo, e ricordarsi dei bambini ricoverati sicuramente è un atto di tanta cordialità, di tanta generosità e soprattutto di tanta sussidiarietà. Le ragazze che giocano a Pallavolo della SEAP dall'Icardillo sono venute a trovare i nostri bimbi e è il secondo anno che lo fanno. Non ci fa tanto piacere sia a me come direttore, sia ai miei dirigenti medici, ma soprattutto anche alla triade strategica che quando si tratta di questi eventi li accetta di buon grado. Abbiamo organizzato nel reparto di pediatria una settimana veramente per quanto riguarda l'accoglienza delle istituzioni. L'ho definita la settimana della solidarietà all'unità operativa complessa di pediatria. In effetti è un tutt'uno di susseguirsi di eventi in questa settimana. Ieri sera per esempio al consorzio universitario c'è stato uno spettacolo il cui direttore artistico era Vincenzo Gnoffo che ha ragimolato circa 500 persone. Ci siamo divertiti, siamo rimasti entusiasti di queste manifestazioni, folchi, canore, di danze e di balli. E alla fine tutto il ricavato sarà dato al reparto di pediatria con cui possiamo comprare delle attrezzature che magari non sono in questo momento presenti nel nostro reparto e che possono essere utilizzate per i diversi ambulatori che abbiamo. Un grazie va a questi organizzatori perché la cifra accumulata è di un certo respiro. Sono stati presi circa 4.600 euro che saranno utilizzati per migliorare ancora di più il nostro reparto. Siamo contenti di essere venute e portare un sorriso a questi bambini è bellissimo e siamo contenti. Prima di venire qua siamo andati alla mensa, abbiamo lasciato un piccolo pensiero da parte nostra. Sono stati molto gentili, ci hanno offerto il caffè, ci hanno offerto addirittura loro qualcosa da sgranocchiare. E niente, sono comunque delle cose che rendere felici le altre persone è bello. È una giornata diversa dalle altre per noi ma è bellissimo. Abbiamo portato un piccolo pensiero ma la cosa più bella per me è vedere il sorriso di questi bambini. Spero che restino poco qui, vuol dire che guariranno presto e spero che passino un bellissimo Natale. Una cosa bellissima, a me piacciono molto i bambini, non ne ho di miei, infatti li porterei via tutti, me li prenderei che sono bellissimi. Poi ti danno una carica allucinante perché comunque anche vedere questi sorrisi con un piccolo gesto, abbiamo provato della cioccolata così però la felicità anche nel vedere Serena Moneta Babbo Natale è stata veramente molto bella.